In quel caso potrebbe essere raggiunto, se arriva secondo, da Cohen e Cross, ma non da Trolli de Prevaux e da Fele. Quando si va agli ordini dello starter, partiti. Non brillantissimo punto di diamante che si mette dietro ad Acquessale e Picciopaccio. Acquessale e Picciopaccio all'esterno, Fantastic Secret in corda, punto di diamante, con Picciopaccio che passa su Rossese, Acquessale, Fantastic Secret e all'argo di questi quattro. Infinity Game poi punta di diamante con all'esterno Abbey Road. Picciopaccio in vantaggio su Infinity e Fantastic Secret, Acquessale e Rossese in coda. Seguono Abbey con all'interno punta di diamante. Prima curva, Picciopaccio, Infinity Game, Acquessale con all'esterno Fantastic Secret, punto di diamante, con all'esterno Rossese in coda, all'argo Abbey Road che ora ripiega. Picciopaccio e Infinity Game alle prese, poi Acquessale che prova a filtrare all'interno di Picciopaccio con punto di diamante, Fantastic Secret è nel treno esterno con Abbey Road, all'argo Rossese. Fantastic anticipa ora, o tende a farlo Rossese e va su Infinity all'interno Acquessale, quindi Picciopaccio e Infinity, Acquessale, Fantastic, all'argo Rossese, poi punto di diamante, Abbey Road quando si entra in curva, Picciopaccio, Infinity, poi Fantastic e Acquessale, all'argo Rossese alla frusta in corda, punto di diamante, in coda Abbey Road, allunga Picciopaccio con Infinity Game, poi Acquessale, Fantastic, Rossese montato, punto di diamante per Varchi, quando si entra addirittura Acquessale all'interno di Picciopaccio e Infinity Game, dietro a questi Fantastic Secret in mezzo alla pista e punto di diamante, Acquessale che allunga in corda e prova a scappare da Fantastic Secret e punto di diamante, Picciopaccio, Acquessale contro Fantastic Secret, punto di diamante, Picciopaccio, in quattro che possono vincere, punto di diamante che attacca, Acquessale, Fantastic Secret e Picciopaccio, lo scatto e lo strillo di punta di diamante, su Picciopaccio e Fantastic Secret. Punta di diamante, Simone Fiorentini e Andrea Orti, assegno, numero 6 dello schieramento, secondo l'otto di Picciopaccio, terzo il quattro di Fantastic Secret, quarto Acquessale, c'è da fare i conti, c'è da fare i conti, perché? Vediamo un po', vediamo un po', Leonard va a 15 e non raggiunge di tocco, secondo Jacopini ne prende 10 e niente, terzo Trolleide Prevaux che va a 21, quindi 21, poi quarto Acquessale Fele che ne prenderebbe 5, va a 18, se quinto è di tocco avrebbe vinto di tocco, se quinto è il 3 di Abbey Road potrebbe aver vinto lui, e se quinto è Sean Cross vanno alla pari Trolleide Prevaux e Cross, ma a quel punto vincerebbe probabilmente Cross perché ha vinto una corsa, l'altra non l'ha vinta. È strettissima per il quinto posto che determina la vittoria della Ribot Cup, è tutto per il momento. Ci sono, eccoci qua, terzo vincitore differente oggi, ancora l'Irlanda a segno, Kilian Leonard con il favorito Punta di Diamante. Kilian, il tuo corso era il favorito, ma non era così facile di vincere. No, guarda, i blinkeri sono sull'anno, può essere un po' lazy, ha viaggiato, sono abbastanza felice, sono probabilmente un po' più vicino, quanto volevo essere, ma quando la rata si stava iniziando, ho sempre stato felice e ho sentito che ho avuto un po' di toglie quando ho avuto un po' di toglie, ha avuto abbastanza facilmente. Ok, grazie Kilian, congratulazioni. Il cavallo era piuttosto pigro durante il percorso, il paraocchi lo ha aiutato e nel finale, insomma, alla fine è riuscito a venire a capo della situazione, anche se non è stato semplice. dobbiamo avere soltanto la conferma ufficiale del quinto posto, in questo caso è importante il quinto posto di questa corsa, perché se confermato il quinto posto di Dario Di Tocco, Dario avrebbe vinto la Riboc Cup con 23 punti, nei confronti di Guilhame Trollei de Prevaux che è terminato a 21 con il piazzamento ottenuto adesso e al terzo posto Shaney Cross con 20. Naturalmente aspettiamo la conferma ufficiale e poi avremo la premiazione con tutti i ragazzi di questa Riboc Cup. Grazie. Grazie.